Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare le ultime due partite che ci interessano di domani di Champions League. In realtà, l'abbiamo detto anche nel video di ieri, quella della Juventus non è che ci interessa particolarmente, è una partita abbastanza inutile, se non forse per il compenso che può uscirne dalla vittoria o dal pareggio Champions, mentre l'unica effettivamente interessante ed effettivamente valevole per qualcosa è quella del Milan contro il Salisburgo. Prima di cominciare vi ricordo che il libraccio che trovate su Amazon, proprio ieri ho ricevuto una mail da Amazon che sarà inserito in una serie di top libri a cui si avrà accesso attraverso Amazon Libri, Amazon Prime Libri, no? Capito? Era una mail molto complicata che dicevano sostanzialmente ti abbiamo scelto il tuo libro, se vuoi lo pubblichiamo anche in questa sezione. È una sezione a parte di Amazon dedicata ai libri più letti e ci hanno messo dentro il libraccio, quindi io non posso che fare altro che ringraziarvi perché comunque avete permesso insomma al libraccio di essere scelto da Amazon. Allora, andiamoci a vedere queste partite ed oggi ci saranno Napoli e Inter che abbiamo già visto, mentre domani ci abbiamo Milan, Salisburgo e Juventus PSG. Leviamoci Juventus PSG che tanto non credo che ci sarà molto da vedere. Il PSG è primo a 11 punti, vediamo com'è la situazione del girone. PSG primo a 11 punti, Benfica a 11 punti. Quindi diciamo che probabilmente al PSG gli interessa vincere, anche perché con grande, grande, grande probabilità il Benfica batterà il Maccabi. Quindi non è mai facile immaginarsi una Juventus così remissiva, così, non so come definirlo, senza grinta che perda in casa col PSG senza fargliela sudare. Per me non è mai facile immaginare una Juventus di questo genere. Però i numeri, questa quota che piano piano scende sul PSG, la Champions assolutamente disgraziata fatta da Juventus, la necessità di preservare i giocatori per il campionato, perché comunque la Juventus ha una catarve di giocatori infortunati, a 1,70, senti, io me lo vado a prendere, PSG a 1,70 mi sembra una buona possibilità, una buona proposta. Poi, se si vuole cautelare, ovviamente ci si sceglie la X2, però mi sembra una buona opportunità, perché comunque abbiamo quest'altra partita del Benfica, che può addirittura arrivare primo nel girone col PSG, quindi io do per scontato la vittoria del Benfica sul Maccabi, quindi se il PSG pareggiasse a Torino, comunque perderebbe il primo posto, non sarebbe proprio la scelta più facile da immaginare, quindi secondo me ci possiamo mettere il due secco. Milan-Salisburgo è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia perché il Milan, per la prima volta, direi, in campionato, in questo inizio di campionato, ha dimostrato un'effettiva incapacità di reazione ad un toro che l'ha imbrigliato, non l'ha sofferto quasi mai, ci sono stati dei giocatori che hanno giocato veramente molto molto male, come Leao, come Brian Diaz, insomma è stato un Milan sottotono, anche in maniera abbastanza sorprendente, però ha questa occasione, veramente da non farsi scappare, di passare il turno in Champions, all'inizio poteva sembrare anche difficile che il Milan passasse il turno, sebbene il girone fosse abbastanza equilibrato. Qui ci abbiamo ancora tutto aperto, il Chelsea, vabbè, credo che non abbia nulla da temere, col Dinamo Zagabria, per quanto abbia già perso la prima partita, quindi diciamo che al Chelsea con un punto si toglie da qualunque problema. Il Milan, adesso vediamo le quote, secondo me è leggermente ingannevole come situazione, perché comunque ce la offrono a una quota invitante, a 1,53 sarebbe una quota invitante per la singola, però immaginiamoci pure che questo risultato del Milan non è così obbligato, ossia con un pareggio terrebbe dietro il Salisburgo, Salisburgo che io considero sempre una squadra non facile da giocare, perché se andiamo a vedere ha segnato sempre a tutte, ha segnato all'andata al Milan, ha segnato al Chelsea, ha vinto col Dinamo, ha segnato nuovamente con la Dinamo e ha segnato col Chelsea. Non è una squadra fortissima, ma è una squadra che gioca sempre. Quindi un gol del Salisburgo è sempre da tenere in cantiere. Con il pareggio il Milan andrebbe a 8 punti e oltre a tenere dietro il Salisburgo eviterebbe anche un ipotetico, molto molto poco probabile, vittoria della Dinamo-Zagabria che andrebbe comunque a 7. Quindi il pareggio al Milan gli starebbe bene, sia dal suo punto di vista di classifica, quindi tenendo dietro il Salisburgo, sia per evitare la Dinamo-Zagabria. Per questo non spingerei troppo sull'uno secco, perché comunque anche il pareggio, secondo me, essendo un risultato positivo, potrebbe starci. Perciò mi andrei a spostare sui gol. I gol, io, una partita di questo genere, me ne aspetto un paio. Qui c'è un buon calo dell'over, a 1,67. Vediamo se c'è un buon calo anche del gol. C'è un calo, non possiamo considerarlo buono per il semplice fatto che la quota è ancora molto alta, a 1,75. Secondo me è una partita che ci potrebbe regalare tra i due e i quattro gol, onestamente. non so immaginare l'over due e mezzo se vale la pena rischiarlo oppure no. A 1,67 potrebbe anche essere rischiabile, però secondo me un multi-goal 2-4 ci può stare come opzione. Perché un gol del Salisburgo, io dentro, me ce lo aspetto sempre. Quindi, un 1-1, 2-1 per il Milan, certo, diventerebbe abbastanza complicato, clamoroso e assolutamente da scongiurare l'ipotesi in cui il Salisburgo vinca. Però, se il Salisburgo lo teniamo come terzo, ossia che va in Europa League, secondo me il Milan con il pareggio se la capa. Quindi, questa è una partita che io vedrei da multi-goal 2-4 o anche esito-goal volendo, se gli devo dare una connotazione complessiva direi una 1x più over 1,5. Ecco, questo è quello che mi dice sia la classifica che i numeri. Secondo me l'offerta del bookmaker è 1,50. Il Milan è un po' ingannevole per il fatto che non è così detto che il Milan voglia affondare il colpo tanto più che viene da una sconfitta in campionato e tanto più che poi si riparte subito col campionato quindi ci sarà anche un po' bisogno di rotazioni di far respirare un po' qualcuno quindi sostanzialmente con il pareggio o quantomeno andando sul diesiti dei gol siamo un po' un po' più cautelati su tutto perché comunque con il pareggio il Milan passa evita la Dinamo evita il Salzburgo insomma credo che che ci sta come connotazione. Per questo video direi che è tutto ci vediamo nei video per la Serie A anche perché settimana cioè in questo settimana c'è il derby Roma-Lazio quindi tutta la polemica che c'è stata un paio di giorni fa sul fallo di Milinkovic di Milinkovic polemica strana perché il fallo se andiamo a vedere c'è pieno cioè il piede lo acciacca totalmente è vero che ha passato la palla però non so se rientra in quelle condizioni di condotta violenta ormai il regolamento non è più solo tocco mano falce ci stanno 2000 interpretazioni su ogni aspetto del regolamento la condotta violenta potrebbe esserci anche quando tu c'hai la palla quindi in quel caso Milinkovic c'ha la palla e poi pesta violentemente un avversario potrebbe rientrare non lo so perché non sono così esperto del regolamento però non mi sembra neanche una polemica così infervorata come hanno provato a farla dalla parte dei di Sarri o dei giocatori della Lazio perché il pestone è chiaro ed evidente comunque sarà interessante analizzare il derby cercando comunque di mantenere la lucidità e non scendere nella tifoseria per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti